Sì, allora, Franco puoi anche... vabbè, ti chiamo da un po'. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro, ho 30 anni e sono di San Severo. Lei è mia moglie, Assunta, e ha 25 anni e anche lei è di San Severo. Io conosco il Signore nel 99, mi parlo del Signore, la sorella Anna D'Aloia. Nel 99 avevo 18 anni e sinceramente pensavo a tutt'altro. Molte volte non ascoltavo neanche ciò che mi diceva la sorella. Ma un giorno mi regalò una Bibbia. Quella Bibbia stette a prendere polvere per un bel po' di tempo sullo scalfale della mia cameretta. Ma un giorno avevo deciso di aprirla e di sfogliarla. E attirò il mio sguardo il capitolo 2 di Efesimi, il versetto 8 e 9. dove Paolo scrive che non è per opere che siamo stati salvati, ma è per grazia metà nella fede. Non è per opere affinché nessun uomo si davanti. A quel passo io rimasi distrutto, perché io pensavo che se andasse in cielo solo se una persona si fosse comportata bene, se avesse fatto delle buone opere. Insomma, perché a 18 anni io non ho fatto niente e il Signore non mi dovrebbe salvare. Quel passo fu la spiegazione. Subito dopo iniziai a frequentare le riunioni nell'Assemblea Cristiana Evangelica in Via Lecce. E dopo due mesi accettai il Signore. Pieghi la ginocchia davanti al Signore. E confessai al Signore che ero un peccatore. aveva aperto il mio cuore a Cristo accettandolo quale proprio personale salvatore. Da quei giorni in cui la mia vita cambiò. E' solo che dopo due anni che frequentavo, per una banalità, una sciocchezza, mi allontanai piano piano da quelle riunioni, dalla donanza. E pian piano cominciai a fare di nuovo la vita che facevo prima. Allontanandomi dalla donanza, voltei le spalle anche al Signore, perché non leggevo più, non avevo più comunione con la preghiera. Dopo un breve periodo, il mio pensiero ritornava fisso al Signore. E volevo ritornare, ma non sapevo più come fare. Ero bloccato, non avevo più il coraggio di tornare indietro. Un giorno, conobbi mia moglie, Assunta, Siamo frequentati per un periodo di tempo, ci fidanzammo. E dopo due anni ci sposammo. Adesso, per i dettagli, passo la parola a mia moglie. Io ho conosciuto il Signore quando mi fidanzai con Alessandro, perché lui mi spiegò che la sua fede era diversa dalla mia. E così, molte sede ci troviamo a parlare di Gesù, della vita eterna. Lui mi spiegava che cosa aveva creduto, qual era la sua fede. Io però non accettavo quello che lui mi diceva, perché non corrispondeva a quello che mi era stato insegnato. E quindi, molto spesso, su questo litigavamo. E lui, a sua volta, mi invitava a leggere la Bibbia, per confrontare quello che lui mi diceva con quello che la Bibbia diceva. Ma io non l'ho mai fatto, perché dentro di me io avevo paura che lui avesse ragione e non volevo affrontare poi tutte le conseguenze, affrontare la famiglia e tutto quello che comportava. Poi dopo due anni di fidanzamento ci siamo sposati e ancora dopo due anni è nata la nostra piccola Alessia, che oggi ha quattro anni. E tra me e Alessandro non si affrontava quasi più il tema della fede. Tanto che io speravo che lui fosse cambiato, ma ogni volta che tiravo fuori l'argomento, lui ribadiva sempre le stesse cose e io capivo che non era cambiato. Comunque durante questi anni io sentivo dentro di me un malessere, ero triste, sentivo un vuoto, una solitudine, non capivo il perché. Poiché avevo una bella famiglia, io e mio marito ci amavamo, andavamo d'accordo, avevamo una splendida bimba, eppure non ero serena. Così un pomeriggio, dove mia figlia dormiva e Alessandro era al lavoro, spinta sempre da quel vuoto, da quella solitudine, presi la Bibbia che era sulla mensola della cucina e l'apri, iniziai a leggerla. E così facevo ogni pomeriggio, ogni giorno leggevo la Bibbia, con lo scopo di arrivare fino all'ultima pagina, per scoprire la verità. E così più leggevo e più mi appassionavo, perché stavo imparando a conoscere Dio e quello che aveva fatto Dio per l'uomo. Leggendo scoprivo tante cose che non sapevo, tra cui la certezza di poter ricevere la vita eterna, se lo si vuole. Quando finì di leggere la Bibbia, decisi di seguire Gesù, non come io pensavo e volevo, ma come la Bibbia in quei pomeriggi mi aveva insegnato. Così il 7 ottobre 2009 mi inginocchiai e chiesi perdono a Dio dei miei peccati, chiedendo a Gesù di entrare nel mio cuore come Signore e Salvatore. E da quel momento Dio mi diede in dono la vita eterna. Grazie. E potete immaginare, al mio ritorno, lei mi diede questa notizia. Ed è stata per me una notizia bellissima. Due anni fa, c'era questo problema di ritornare, di tornare alle riunioni, alla donanza. Due anni fa noi stavamo fuori questa tenda, la giravamo intorno, perché non avevamo il coraggio di entrare. Oggi ci troviamo qui. Non abbiamo avuto il coraggio di entrare due anni fa in questa tenda, ma poi il coraggio lo trovammo e andammo una sera a casa dell'anziano dell'assemblea di Giuseppe. E fu una gioia per noi e poi anche per loro. Ci riabbracciamo. E' quello che vogliamo dire ai nostri parenti che sono qui a trovarci. E' anche qualche amico che ci è venuto a trovare, che noi non abbiamo messo le mani, la nostra vita non è stata messa nelle mani di una religione, nelle mani degli uomini, ma nelle mani di Dio, del Dio vivente, del Dio vero. I problemi ci sono, i problemi ci saranno, ma adesso abbiamo un'opportunità. Abbiamo l'opportunità di vedere la mano di Dio che opera nella nostra vita. Grazie. Grazie.